Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi spiegherò come spostare le app su microSD senza root. Ora, prima di illustrarvi la procedura, voglio premettervi che questa procedura potrebbe non essere valida per tutti gli smartphone. Quindi, magari, ecco, se voi avete uno smartphone con un sistema operativo differente, che non sia Android 10, o uno smartphone diverso dal mio Note 10+, potrebbe non essere possibile attuare questa procedura in questo modo. Quindi, diciamo che nella maggior parte dei casi per spostare le app su microSD si utilizza un'applicazione chiamata Link2SD, che adesso ve la mostro, però richiede il root, che è questo, Link2SD, questa qua. Questa applicazione permette praticamente di spostare le app su microSD con root, quindi permessi amministrativi attivati sul vostro smartphone. La procedura che vi voglio illustrare oggi, invece, vi permette di spostare le app senza root, quindi senza Link2SD, direttamente dallo smartphone. Andate nelle impostazioni, quindi tappate sulla rotellina e andate su Applicazioni. Quindi, ripremetto di nuovo che alcune voci o l'intera procedura potrebbe essere differente sul vostro smartphone. Io sono sul Note 10+, con Android 10. Una volta che sono qui, seleziono l'applicazione che voglio spostare sulla microSD. Poi vado su Memoria Archiviazione, cambia, metto scheda SD, sposta e come potete vedere l'applicazione viene spostata sulla microSD. Naturalmente questa procedura non è attuabile con tutte le applicazioni. Potrebbe esserci il caso che l'applicazione non può essere spostata sulla microSD. Però per la maggior parte delle applicazioni questa procedura è valida.